Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'emergenza coronavirus ed il sistema dei trasporti aeroportuali da e per la Cina. Catania non ha alcun volo diretto con la Nazione del Dragone, le cui tratte sono attive solo da Fiumicino e Malpensa. Si escludono dunque pericoli, anche se a Fontana Rossa comunque è attivo il canale sanitario aeroportuale, in quanto quello catanese è uno scalo sanitario. Vediamo il servizio. Quello di Catania Fontana Rossa è aeroporto sanitario, ma non operando voli internazionali da e per la Cina. È altamente improbabile che su Catania possano registrarsi trasferimenti di passeggeri potenzialmente infetti o che abbiano avuto contatti diretti con il virus. Tutti i voli da e per la Cina, infatti, anche quelli privati, sono stati dirottati dalle autorità negli aeroporti sanitari di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, dove grazie anche alla presenza di scanner termografici verranno assicurati i protocolli sanitari disposti dalle stesse autorità e in costante aggiornamento, così come in costante aggiornamento è la mappa dei casi in cui nel mondo vengono registrati i casi di coronavirus sull'uomo. Tornando al sistema dei trasporti aeroportuali, quello di Catania Fontana Rossa, in questo caso dunque scalo secondario, che opera sì con aeroporti esteri, principalmente però scali europei, ma anche con tratte internazionali fuori dal vecchio continente, ad esempio Dubai. Se in Europa tutte le procedure vengono assicurate dai protocolli sanitari disposti a livello comunitario, anche gli scali internazionali esterni al perimetro europeo mantengono elevati standard di sicurezza che dovrebbero escludere la permeabilità del sistema. Ciò nonostante, all'aeroporto di Catania è costantemente attivo, ma ancora prima dell'emergenza coronavirus, in realtà il canale sanitario, così come previsto dai regolamenti e dalle autorizzazioni specifiche, essendo quello di Catania comunque aeroporto sanitario. Sono gli stessi piloti e i componenti dell'equipaggio, infatti, che all'occorrenza segnalano all'aeroporto di arrivo, in questo caso Catania, ma solo per ipotesi di presenza di casi sospetti, il presunto infetto. A quel punto, il passeggero, una volta arrivato a Catania, viene immediatamente isolato e viene evitato il contatto con ogni altro passeggero e ogni altro dipendente dell'aeroporto, condotto nella stanza del canale sanitario, dove viene prelevato dalle ambulanze della Croce Rossa per essere trasportato sino all'ospedale Garibaldi. Si tratta di procedure standard, svolte con personale altamente qualificato, sottoposto periodicamente a stress test, mentre nei casi più gravi il presunto infetto viene direttamente prelevato da strutture dell'aeronautica militare e condotto allo Spallanzani. A Catania, le tre strutture ospedaliere del Garibaldi, del Canizzaro e del Policlinico, sono dotate di apposite camere infettivologiche, a prescindere dall'allarme scattato a livello mondiale per il coronavirus. Sandro Gambuzza è il presidente della SAC, società che gestisce l'aeroporto di Catania. Premetto che non c'è nessuna emergenza su Catania, ecco questo è bene, ma ritengo che a meno dai dati che ci forniscono i media non ci sia neppure emergenza in Italia, ecco da questo punto di vista. Evidentemente i passeggeri che eventualmente cinesi o che provengono dalla Cina arrivano a Catania attraverso i due hub fondamentali che sono quello di, come tutti sanno, quello di Roma e quello di Milano, dove già, voglio dire, hanno i primi controlli, i primi controlli sono in partenza, durante l'aereo, durante il viaggio, in occasione dello sbarco in questi hub, Catania è ancora pronto, dopo tutti questi controlli, per affrontare, voglio dire, qualunque tipo di controllo e di eventuale situazione emergenziale. Lo fa Catania, essendo il terzo canale sanitario in Italia, lo fa appunto attraverso una organizzazione composita, intanto attraverso il canale sanitario formato con personale altamente specializzato, lo fa attraverso il personale del Ministero della Sanità che collabora nel canale sanitario e lo fa con personale formato proprio per questo tipo di emergenza, lo fa attraverso la stretta connessione con la Croce Rossa italiana, per qualunico ente autorizzato al trasporto eventualmente di questo tipo di passeggeri e lo fa poi in stretta sinergia con l'azienda ospedaliera del Garibald. Cambiamo argomento, l'educazione alla legalità e l'istruzione come principali antidoti al fenomeno mafioso. Il direttore della DIA governale sollecita gli studenti della Scuola Superiore di Catania. Vediamo. Educare alla legalità per combattere il fenomeno mafioso. È stato questo il filo conduttore dell'incontro tenutosi nell'aula magna della Scuola Superiore di Catania con l'interessantissima relazione del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, il generale dei Carabinieri Giuseppe Governale. Un escursus storico sinergicamente integrato con l'attualità nella lotta alla criminalità organizzata e mirato a sollecitare nelle nuove generazioni una forte coscienza civica ed un preciso concetto di legalità. Generale, quanto è difficile insegnare la legalità? Bisogna crederci prima di tutto pienamente e poi trasferire dei concetti. Poi i ragazzi capiscono se ci credi o sei un blef, capiscono che a determinati insegnamenti servono. Oggi servono a ciascuno di noi ma servono alla società perché la società poi è un insieme di cittadini. Le regole sono belle non solo quando si fanno osservare agli altri, quando noi le osserviamo per primi. A volte comportano delle rinunce però molte volte ci danno soddisfazione e sono quelle piccole soddisfazioni o riferimenti ai quali sembrerà retorico, sembrerà lontano dalla realtà, uno poi alla fine si sente una persona per bene. Quanto l'istruzione può aiutare in questo senso? L'istruzione può fare tantissimo. L'istruzione è il peggiore nemico che hanno le mafie. Loro temono, certo, i carabinieri, i poliziotti, gli sbirri, la magistratura, ma la scuola è il loro peggiore nemico perché se i cittadini capiscono una buona volta che sono cittadini con la C maiuscola, allora non si fanno più intimidire. Lei ha trasferito dei concetti sostanziali ai ragazzi? Sì, il concetto è quello che ognuno che è la morale prima di tutto non deve essere la moralità degli altri, deve essere la propria morale, poiché ciascuno di noi non è indispensabile ma è assolutamente utile. Noi se vogliamo crescere soprattutto quest'area meridionale del nostro paese che è distante economicamente, distante anche purtroppo per determinati retaggi culturali che sono diciamo quel grigio chiaro che poi se non curato e non diventa bianco poi tende a diventare nero e alimenta le mafie perché le mafie si sono alimentate dal nero ma dal grigio scuro, dal grigio medio, dal grigio chiaro. Se noi non facciamo in modo di trasformare, di buttarci del colore bianco, un bel colore bianco che riaccende le coscienze e noi questa minaccia rimarrà sempre una minaccia. Ha fatto degli accostamenti anche storici con l'attualità di oggi, per arrivare dove con le nuove generazioni? Con quale sentimento anche deve animare i giovani di oggi? Quello di fare qualcosa per gli altri. Oggi noi abbiamo la possibilità soprattutto che ci viene offerta anche dai social perché i social poi veicolano a volta anche dei concetti particolarmente e poi sono utili per l'approfondimento. Noi dobbiamo capire se vogliamo guardare al futuro soprattutto chi siamo. Siamo un popolo con una grande cultura, siamo un popolo con una grande capacità di ideazione, siamo un popolo però che a volte è stato diffidente, è stato scettico nei confronti dello Stato. Centinaia di anni fa lo Stato, dobbiamo dircelo, è stato assente, è stato lontano e ha consentito che delle forme alternative allo Stato si potessero insinuare. Ora noi dobbiamo combattere la mafia con le armi militari, cioè investigative, ma siamo consapevoli però che dato che si tratta di una malattia sistemica che colpisce più organi, ecco altre organizzazioni allo Stato, quelle della società civile, quelle di un'antimafia seria, corretta, disciplinata, nell'intelligenza e nei sentimenti, tutte insieme possono e sono convinto che si possono ottenere qualcosa. I carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato il 46enne catanese venerando Calabretta, l'uomo il 7 gennaio scorso armato di cattare con il volto coperto da un cappellino e una sciarpa di lana, aveva fatto eruzione nell'ufficio postale di via a Marcello, proprio a San Giovanni La Punta, per compiere una rapina. State vedendo le immagini, puntando il taglierino al collo di una delle impiegate, l'aveva minacciata di consegnargli il denaro. Alla sorpresa e alla conseguente inerzia degli impiegati, l'uomo aveva reagito provvedendo ad avvicinarsi ai cassetti delle postazioni di lavoro da due dei quali aveva prelevato il contante equivalente a 540 euro. Doppio raid vandalico nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni dell'edificio di via Candela ad Acicatena, già sede del comando di polizia municipale, per danneggiare i sistemi idrici e igienici della struttura di proprietà privata. E in un altro quartiere cittadino, nell'ex Marcello, oggi autoparco, per trafugare il carburante dai mezzi pesanti in uso all'amministrazione. La duplicazione è stata scoperta questa mattina dagli impiegati comunali che proprio in via Candela sono intervenuti al fine di circoscrivere le perdite d'acqua dal primo piano e limitare i danni. Il comune ha sporto denunce ai carabinieri. Questo pomeriggio ad Acireale, in municipio, c'è stato un incontro che riguarda la ricostruzione post-sisma, è stata presentata la scheda parametrica della quale si è dotato il comune dell'Aquila in Abruzzo. Sarà adottata anche da Acireale. Vediamo. Ricostruzione post-sisma di Santo Stefano. A 13 mesi dal terremoto, il commissario straordinario Salvatore Scaria convoca una riunione per illustrare l'adozione della scheda parametrica introdotta all'Aquila con successo sulla quantificazione dei danni riportati dagli immobili danneggiati e l'importo massimo del contributo concedibile agli eventi diritto pubblico e privato sono stati equiparati tra cui aziende e attività artigianali. Il nuovo sistema informatico implica responsabilità precise da parte dei professionisti nel redigere i progetti e quantificare le richieste appena l'ascursione dei rimborsi con inevitabili strascichi giudiziari. Su questo fronte l'ex alto magistrato Scaria, a capo della struttura commissariale, è risoluto. Il modello sperimentato positivamente nel capologo abruzzese dovrebbe imprimere un'accelerazione all'itere risarcitorio, e chiarisce il commissario. Deriva dall'esperienza che ha fatto l'Aquila e che hanno fatto anche altri. Molti di noi pensano che per ricostruire l'Aquila ci è voluto tanto tempo ed è vero, però proprio questo gli ha consentito di acquisire un'esperienza che solo adesso loro sono riusciti a trasformare in dei modelli operativi. E noi vogliamo approfittare di questo loro travaglio per utilizzare questi modelli operativi che loro hanno adottato. Teniamo presente che questo modello ci viene fornito gratuitamente dall'Aquila, e cioè dal commissario per la ricostruzione dell'Aquila, dal comune dell'Aquila, ho avuto il piacere di parlare anche col sindaco, si sono detti disponibili a darci il loro know-how, a collaborarci anche facendo venire della gente qui per collaborare in una sinergia che io veramente devo ritenere incomiabile. Alla riunione del pomeriggio hanno preso parte ordini professionali di geologi, ingegneri, geometri del Lancia, Associazione Nazionale Costruttore Dili e dei commercialisti per i percorsi risarcitori da una parte degli sgravi previsti su cui il sistema bancario ha espresso parere favorevole all'adozione di piani di ammortamento riservati alle popolazioni dei nuovi comuni terremotati. La scheda parametrica è una guida informatica che consente in una prima battuta di comprendere quale sia il danno, l'entità del danno, che ci consente di dire che le somme che sono state stanziate sono o non sono sufficienti, in che misura sono sufficienti e quelle che ci sono come distribuirle. Quindi la prima cosa è la quantificazione del danno, la seconda cosa è la localizzazione definitiva dei danni e la individuazione della loro entità. Questo in una prima battuta. Servirà da guida ai professionisti che devono essere nominati al più presto dai privati, servirà da guida ai professionisti per inoltrare le pratiche, per comprendere come devono essere inoltrati, ad evitare che questo va e vieni delle pratiche. Le pratiche non si può sbagliare con questa scheda. Le pratiche dovranno essere presentate con quei dati, verranno lavorate sempre per via informatica, si seguirà quali sono i tempi e questa scheda servirà per monitorare ogni pratica dall'inizio a quando poi ci sarà la liquidazione. Rimaniamo ad Acirale perché due consiglieri d'opposizione attaccano l'amministrazione comunale per la mancata fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento in alcuni istituti scolastici, anche scuole dell'infanzia. La questione è seria ed impone una soluzione veloce. Diversi istituti scolastici di Acirale sono senza riscaldamento, in prevalenza scuola elementare e dell'infanzia. Il caso è stato sollevato insieme al Consiglio Comunale dai consiglieri di opposizione D'Ambra e Frelito che si sono mossi anche in ambito di commissione sollecitando un'accelerazione dell'Itere tenendo conto dei tempi del MEPA, il portale degli acquisti della pubblica amministrazione cui si rivolgono i comuni per i bandi al migliore offerente. Alla scuola dell'infanzia di Santa Tecla a presso elementare di Stazzo, cui si riferiscono le immagini, i genitori degli alunni da tempo denunciano l'assenza di riscaldamenti. Il problema investe anche altri istituti come il Paolo Vasta dalle forniture di gasolio, calda e guasti e condizionatore a pompa di calore disattivati per mancata manutenzione e usura del macchinario. Tempi e modalità di intervento sono stati lungamente dibattuti in Consiglio Comunale. I bandi del MEPA hanno dei tempi piuttosto lunghi mentre per gli interventi di cui gli uffici e dell'ente possono programmare le spese di ripristino e gli impianti si registrano i soliti inghippi burocratici. Anche perché sollecitati dalle famiglie sono stanchi di vedere, assistere a queste situazioni imbarazzanti e l'amministrazione inerte rispetto a questo. Stiamo trascorrendo proprio il periodo invernale, il periodo di maggior freddo e le procedure burocratiche come sempre bloccano quella che è un'azione che dovrebbe invece a favore delle famiglie di questi studenti avvenire in modo celere. Che ce ne facciamo di un iter che si sblocca in estate? Voglio dire, non c'è stata nemmeno l'azione per cercare di tamponare a questa situazione della manganza degli scaldamenti. Io mi riferisco in maniera particolare al plesso di via Rosario Messina stamane con il consigliere Gaetano Di Mauro peraltro presso la commissione lavori pubblici abbiamo sentito anche i tecnici prima il dottore Messina addetto alle scuole e poi l'ingegnere Vitellaro. E la mara sorpresa di oggi è quella che l'ingegnere Vitellaro ha pensato di procedere con l'iter attraverso il MEPA cosa che ci amareggia tantissimo perché la procedura con il MEPA allungherà ulteriormente i tempi. Noi come Consiglio Comunale abbiamo deciso con un regolamento che per importe a di sotto dei 40 mila euro si può procedere anche con affidamento diretto quindi l'inerzia della burocrazia e l'inerzia soprattutto dell'amministrazione che è responsabile di questo disservizio. Trattandosi di bambini in tenere età è auspicabile programmare per tempo gli interventi manutantivi e le forniture per evitare le solite lungaggini amministrative che prolungano i tempi e scatenano polemiche osserva il consigliere Giuseppe Ferlito. È un problema per i bambini per i bambini che vanno nelle scuole è un problema sollevato per tempo ritengo che questi interventi vadano pianificati per tempo questo è il periodo dove i bambini devono stare nelle scuole nel modo più adatto ritengo che gli interventi vadano fatti al più presto perché ormai il periodo invernale va quasi a chiudersi e che sia necessario e sia indispensabile un'adeguata pianificazione perché non si può rimandare non si può aspettare qualcosa che non arriva e intervenendo nei modi giusti e intervenendo con un'adeguata pianificazione è l'unico modo per poter affrontare seriamente in maniera risolutiva i problemi Si tratta di bambini dell'asilo e delle elementari Stazio e Santadegra sono tra le due scuole che hanno manifestato questo tipo di difficoltà Diciamo che il problema è diffuso è stato posto anche nell'adeguata sede vedi in consiglio comunale si chiede anche una collaborazione se non si riesce con le risorse interne si può chiedere anche un supporto vedi della SOGIP come è stato fatto in passato l'importante è che si trovi una soluzione per un problema che è atavico è ripetuto e che deve trovare una soluzione al più presto Maggiore attenzione alla periferia di Catania a chiederlo sono i residenti di Montepò Montepò 6.000 anima è una città nella città di Catania il popoloso quartiere sviluppatosi a partire dagli anni 70 incastonato tra San Giorgio Onesima e Mister Bianco si ribella l'abbandone al degrado destino comune delle periferie metropolitane sotto la coltre dell'incuria datata e l'indifferenza del mondo esterno e delle istituzioni tra queste vie del mercato la piazza di Montepò punto di riferimento c'è una vita che va avanti spesso a fatica attività commerciali piccole industrie artigianali ma pochi luoghi di ritrovo per i giovani a rischio che amano Montepò della loro sete di riscatto sociale da qualche anno si fa portavoce Giuseppe Allegra che con la sua associazione ne raggruppa oltre un centinaio è abbattere il muro di pregiudizi che la gente alza quando si parla delle periferie noi in 4 anni abbiamo fatto tanto abbiamo fatto opere di beneficenza abbiamo fatto tante iniziative io come presidente insieme ai miei ragazzi cerchiamo di togliere tante bambine dalla strada e fargli fare dei percorsi diversi di quelli che si vedono nelle strade dei quartieri alle sue spalle c'è ancora un simbolo di come il Natale è stato vissuto grazie all'impegno del territorio realizzato con delle lattine sono state realizzate con delle lattine dal più piccolo al più grande dalle mani dei bambini è stato realizzato ognuno dà il suo contributo affinché le cose cambino dell'associazione fa parte anche un maestro di arti marziali che dona il suo tempo ai ragazzi il comune ha messo a disposizione i locali i ragazzi ipotenzialmente molto molto diciamo dotati purtroppo non sono attenzionati e dobbiamo cercarli noi per farci fare lo sport non c'è un interesse a livello politico ma per lo sport a breve potrebbero essere concesse delle botteghe comunali utilizzate per ospitare attività sociali i rappresentanti cittadini Andrea Barresi e Paola Parisi che hanno ottenuto importanti opere sul territorio a partire dalla scuola lavorano adesso ad un contratto per il rilancio con l'amministrazione comunale un campetto di pallone importante per questi ragazzi deve essere ripristinato con urgenza per dare un segnale in una parte periferica della città non può essere più possibile che il centro è sempre valorizzato e le periferie sono abbandonate a se stesse ma in questo il sindaco è stato abbastanza chiaro quindi aspettiamo anche da parte dell'assessore allo sport una risposta importante per il territorio chiediamo maggiori pulizia per questo quartiere quindi sollecitiamo anche l'assessore Cantarella affinché alle aziende che si occupano della raccolta e dei rifiuti in questa città possa essere istituita una task force speciale non solo per questo territorio ma per tutte le periferie il sistema meccanizzato purtroppo non funziona ed è stato ormai testato e provato quindi la Garaponte purtroppo non ha dato i frutti importanti che si aspettavano e che tutti quanti noi cittadini aspettavamo nel frattempo anche un invito all'MT il problema non può essere che un cittadino di Montepò per scendere al centro aspetti un'ora un'ora e mezza qui ci abitano circa 6.000 persone è visibile lo stato di degrado in cui versa questo quartiere io credo che così come è stato messo inizialmente nell'accordo stilato con il sindaco questi quartieri devono essere attenzionati Montepò in particolare si parla di questo quartiere come un quartiere delinquenziale non è vero in tutti i quartieri ci abitano delle persone ci abitano dei cittadini che meritano tutela intanto a Montepò due passi dal cantiere per la più grande opera del trasporto la metropolitana di Catania per migliaia di cittadini catanesi gli autobus restano un miraggio bisogna aspettare quando arrivo quando uno ha prestannato due, tre di fila però in certo orario dobbiamo aspettare molto quindi se uno ha un appuntamento non può fare affidamento sul bus se uno ha la macchina si prende la macchina e fa da sé e fa da sé certo sono cadenti i locali che ospitano il quarto municipio di Catania in via Galermo siamo andati a raccogliere le lamentele del presidente Erio Buccetti cadente transennata non proprio un bel biglietto di visita parte dell'edificio che in via Galermo ospita il quarto municipio la massima sede istituzionale del quartiere con uffici front office per il cittadino nonché cenacolo politico del dibattito democratico locale ha bisogno di una veloce e non più rinviabile manutenzione pessime le condizioni infatti in cui versa una parte della struttura che così come denunciato dal presidente del quarto municipio Erio Buccetti non ha ricevuto gli opportuni e necessari interventi di manutenzione straordinaria oltre che di messa in sicurezza strutturale malgrado le continue segnalazioni anche pervenute dai cittadini l'appello perché la sede della municipalità di Cibali Trappeto Nord San Giovanni Galermo possa essere adeguatamente ristrutturata La quarta municipalità è stata investita da una serie di disagi e di criticità che sono stati già da diversi anni oggetto di denuncia nei confronti degli uffici competenti e che purtroppo hanno visto il massimizzarsi dei problemi solo recentemente quando c'è stato una serie di staccamenti di intoneci e di compromissioni strutturali dell'immobile che hanno condotto e indotto l'ufficio manutenzione a seguito di un accertamento dei vigili del fuoco a transennare tutte le aree di pericolo limitando di fatto l'accesso all'interno del quarto municipio a seguito di copiose segnalazioni oggi tuttavia nessun tipo di intervento interamente risolutivo è stato posto in essere ecco perché il sottoscritto e congiuntamente tutto il consiglio chiede ed intima agli uffici competenti di provvedere rapidamente ad una risoluzione dei problemi ed evitare che il buongiorno all'utente venga dato giornalmente da una transenna piuttosto che da un sorriso di un dipendente chi deve intervenire? deve intervenire l'ufficio manutenzione del comune di Catania ed eventualmente laddove si dovesse appurare una necessità di impiego economico di gran lunga superiore i lavori pubblici questo non è un intervento che può essere ulteriormente rinviato un coordinamento fra presidenti di consiglio comunale di tutta l'area metropolitana di Catania e questo l'obiettivo oggi c'è stato un confronto a Grevina vediamo un'assemblea unica trasversale a tutti i comuni etnei muove i primi passi da Grevina di Catania il coordinamento di tutti i presidenti di consiglio comunale dell'area metropolitana di Catania su iniziativa di Claudio Nicolosi anche consigliere Anci ed è presidente del consiglio comunale di Acicastello il primo incontro nell'aula consigliare di Grevina oltre al fatto di conoscerci è importante capire quali sono le esigenze dei presidenti il ruolo appunto di presidente le esigenze del consiglio comunale e quando poi riusciremo in qualche modo a essere tra virgolette operativi perché oggi è solo una fase propedeutica per certi versi cerchiamo di portare avanti le istanze appunto che sono necessarie alla collettività e al ruolo che noi svolgiamo queste istanze dovranno però poi essere veicolate al di fuori della realtà locale è proprio questo poi è quello che noi vogliamo fare abbiamo la possibilità di portare fuori queste istanze tramite il sottoscritto e il vicepresidente del consiglio comunale di Catania Lanfranco Zappalà visto che siamo nel consiglio nazionale del Lanci e a seguire abbiamo un altro collega che invece è il vicepresidente regionale del Lanci anche se non è della nostra provincia con cui ci possiamo interfacciare perché ai cittadini questa cosa dovrebbe interessare cioè poi qual è l'importanza l'importanza secondo me è anche avere sempre di più un punto di riferimento all'interno dell'amministrazione comunale e andare a identificare i ruoli precisi di ogni consigliere o comunque di ogni organo politico che lo rappresenta e poi ecco regolamentare anche una fase di apertura nei confronti dei cittadini e quindi un rapporto diretto tra cittadino è il presidente del consiglio comunale a rappresentare il comune di Catania Lanfranco Zappalà anche quest'ultimo collegamento diretto con l'AMCI e l'associazione nazionale dei comuni allora è chiaro che nella relazione che i presidenti stanno illustrando è chiaro che sono delle carenze ci sono alcuni regolamenti che sono diversi rispetto agli altri comuni di tutti i paesi quindi cercare di fare un unico fronte e chiedere alle istituzioni regionali ma soprattutto all'ANCI regionale e all'ANCI nazionale di cui io e Claudio Nicolosi facciamo parte una presenza maggiore per quanto riguarda quelle sono le istituzioni presenti nelle città metropolitane è chiaro in attesa anche di un coordinamento che deve essere fatto con la città metropolitana con le elezioni noi andremo a breve a svolgere l'azione unitaria riveste un significato fondamentale soprattutto dopo il vuoto amministrativo creato dalla scomparsa delle province parliamo di sostenibilità e di mobilità sostenibile senza un accordo fra questi territori dell'area metropolitana senza un lavoro comune è impossibile avere risultati ma guardi i comuni limitrofi alle grandi città spesso proprio manca questo coordinamento che non è soltanto un problema di mobilità perché molti risiedono nelle periferie e poi lavorano in città quindi è chiaro che quando sia per quanto riguarda un problema di nettezza urbana perché molti per esempio scaricano nella nostra città di Catania provenienti da altri paesi perché comunque in alcuni paesi c'è un problema di differenziata che viene utilizzato in maniera ottimale e poi c'è anche un problema di mobilità cioè dire cercare di espandere perché oggi la questione abitativa non è soltanto nella città principale ma soprattutto nell'inter allora un coordinamento che possa aggregare i comuni limitrofi a una politica unica al di là del colore politico credo che sia l'obiettivo di questo incontro e di questo confronto secondo lei un coordinamento in questo senso dei sindaci c'è già stato c'è che stato di salute ha ma stato di salute è chiaro che il ruolo del sindaco con gli altri sindaci deve anche camminare su queste tematiche però è chiaro che a volte le discussioni avvengono all'interno del consiglio comunale e le istanze poi vengono portate all'amministrazione nonostante il ruolo del consigliere comunale sia quello di controllo sull'operato dell'amministrazione Catania apri pista nel campo della promozione turistica congressuale sportiva di gruppo lo scopo è quello di sostenere e stimolare il turismo congressuale scolastico sportivo nella città di Catania si riassume così il senso di tre delibera adottate dalla giunta pogliese che mirano a promuovere nel territorio eventi di rilievo nazionale e internazionale con pernottamenti nelle strutture alberghiere locali mediante incentivi economici agli enti organizzatori fondi che il comune attingerà esclusivamente dagli introiti dell'imposta di soggiorno le tre delibere sono state presentate questa mattina dal sindaco pogliese dagli assessori allo sport Sergio Parisi e alla cultura Barbara Mirabella e fondano la loro fortuna sull'incremento esponenziale del ricavato che il comune in questi anni ha saputo ottenere dalla tassa di soggiorno nel 2019 2 milioni 560 mila euro cifra assai distante dagli appena 700 mila euro dichiarati nel 2017 il dato si deve alla collaborazione degli albergatori ma anche alla normalizzazione di circa 950 case per il turismo che operano a Catania e che prima dell'intervento della giunta pogliese non pagavano alcuna tassa all'amministrazione cittadina o meglio gli ospiti delle case per il turismo così come degli alberghi non pagavano tasse visto che la tassa di soggiorno viene corrisposta da chi per notta su Catania e non certo dalle aziende o dai cittadini catanesi le delibere secondo un regolamento che è stato approvato dal consiglio comunale su proposta della giunta prevedono rimborse agli organizzatori di eventi sportivi nella città di Catania di visite turistiche di gruppi sempre a Catania oltre che di eventi congressuali secondo una tabella ben definita alla quale possono fare riferimento enti istituzioni ordini professionali associazioni e federazioni sportive scuole ordini professionali associazioni riconosciute e così via il rimborso non sarà concesso per gli eventi organizzati in periodi particolari dell'anno comunque durante l'estate il tutto ovviamente per destagionalizzare l'offerta turistica abbiamo immaginato tre delibere per incentivare il turismo congressuale il turismo sportivo e il turismo di gruppo in riferimento al turismo scolastico e il turismo della terza età attraverso contributi economici fino a 18.000 euro in base al numero dei pernottamenti determinati dall'evento attraverso un meccanismo trasparente di premialità che permetterà alla nostra città di ospitare nuovi eventi congressuali e sportivi daremo altresì un contributo fino a 1.000 euro per qualsiasi gruppo scolastico o dei cral che entra nella nostra città attraverso due notti di pernottamenti con almeno 45 componenti del gruppo tutto ciò determinerà certamente nuove gite scolastiche organizzate nella nostra città in un periodo di destagionalizzazione poiché escludiamo i periodi estivi i periodi delle festività natalizie o pasquali o delle festività gatine Catania si sta attrezzando attraverso il miglioramento della red urbano anche lì grazie alla tassa di soggiorno attraverso nuova segnaletica turistica attraverso brochure attraverso anche la promozione della città in Italia e nel mondo grazie all'inserimento di banner pubblicitari nei maggiori siti di prenotazione alberghiera vi è poi un incremento nel contributo qualora le strutture dovessero avvalersi di giornalisti regolarmente scritti all'albo agenzie di comunicazione testate giornalistiche per la promozione degli eventi sportivi o congressuali una premialità aggiuntiva ai 2000 euro per chi si rivolge a testate giornalistiche agenzie di comunicazione o a giornalisti scritti all'albo credo che sia un atteggiamento doveroso nei confronti dell'operatore dell'informazione all'interno di un contesto in cui il giusto compenso non viene mai applicato e quindi credo che siamo in presenza di tre interventi amministrativi di eccezionale Valenza siamo il primo comune in Italia voglio sottolineare e siamo convinti che Catania debba puntare sempre di più sul turismo lo stiamo facendo non soltanto a parole ma anche attraverso atti amministrativi coerenti rispetto a queste impostazioni il 391esimo comune siciliano nascerà probabilmente prima dell'estate si troverà in provincia di Trapani il suo nome sarà Misiliscemi che significa torrente o luogo dove scorre l'acqua elevato la giunta Musumeci lo scorso 16 gennaio ha dato l'occhiella delibera per l'istituzione del nuovo ente locale Misiliscemi avrà 8.669 abitanti circa il 12,5% degli attuali abitanti di Trapani numeri che potrebbero aumentare durante la stagione estiva dalle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle al Carovoli e Caronavi ma anche il decreto legge per salvare l'Alitalia questi sono alcuni degli argomenti trattati questa settimana all'intervista ospite il deputato nazionale Pentastellato Luciano Cantone componente della Commissione Trasporti appuntamento dunque sul Reitv canale 89 questa sera alle 20.20 alle 23.30 ed in replica nei prossimi giorni e rieccoci in studio non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora dunque si conclude qui la seconda edizione del nostro telegiornale disponibile all'indirizzo reitv.it sul canale YouTube ma anche sulla nostra pagina Facebook adesso le previsioni meteo per la giornata di domani e la regolare programmazione della retta a voi tutti buon proseguimento di serata cielo soleggiato in qualche caso parzialmente velato nella giornata del 31 gennaio 2020 il bel tempo farà ancora capolino su tutta la Sicilia i mari saranno tendenzialmente calmi temperature previste nelle medie stagionali a Catania si registrerà una minima di 8 e una massima di 19 gradi più freddo nell'entroterra con un grado di minima denna e due a Caltanissetta la temperatura più alta si registrerà invece nel Siracusano con 20 gradi di massima 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 Autore dei sorrisi